Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi come già avete letto dal titolo, vi spiegherò come mettere il sondaggio sul proprio vostro video e come mettere questa cosa, vi succederei un po' come io ho fatto quello che ho fatto. Niente, di sopra, di solito, dovete fare un casino nel solito canale e io queste cose qua sopra non ce le avevo. Ora sì, ce l'ho. Come? Vi direi, ho anche sui miei video questo, un sondaggio, un sondaggio, siete iscritti, lo mettete sì o no, sì certo. Comunque, allora, voi andate qui e andate su, non vi consiglio di go, ma andate su Chrome. Ok, comunque se non vi faccio i treni lo faccio perché come sembra si è rotto la fotocamera. e però giusto ero un'altra volta, per ora no. Vabbè, il tempo che mi carico, lo scelgo su, quattro, vabbè. Ho bisogno che devo eliminare la pagina, ok. Ok, la scheda, vabbè, allora, facete più pagina, ok. Non dovete andare a cercare subito perché vi porta su Team. Dovete premere questo qua, l'icona di YouTube. La premete. Dove averla premuta. Io già sono collegata con il mio caso, provo di dire collegarsi. Dopo aver fatto tutto questo, dovevi, ok, qua. Voi dovete andare su qua, non qua, scusate. Facete tre puntini, qua sopra, e facete il sito, desktop. Lo premete. E vi porterà, da pc. Porco d'oraia, eh, scusate, non ho detto parola, lascio però. Ok, due secondi, raga. Ok, ragazzi. Dove aver andato qui, voi normalmente dovete accedere sul vostro account, quindi vi consiglio di prima di cercare il vostro canale e fare accedi. Dove, 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 dovevo andare qua, sul tuo canale. Ok, dovevo aver fatto il vostro canale. Se voi volete mettere questo, sono qua. E video, pari, inserito tutto. Dovete fare sul personaggio del canale. E ci sarà la rotella delle impostazioni. Faccio vedere sul personaggio del canale. Ok. E andate su, qua, dove, è andato su, qua, premeteci, un gradito, è andato su, per sovì, del tuo canale, c'è scritto consiglio, proprio questo, e poi premete. E vi si attiverà. Faccio vedere salva, e dopo, se volete andare indietro, faccio vedere così. Faccio vedere la precetta, mettete indietro, che volete. Vabbè, se non si preme. Ok. Dove aver fatto questo, che se volete mettere la cosa di sopra, andate su YouTube, no, su YouTube, andate su video. Si carica la pagina, ok, su video. Questi saranno tutti questi video, no. Adesso, comunque, aspettate che metto, si fa, due secondi. Ah no, niente, si è fatto subito. Come l'ho detto, comunque, stanno andando sul tuo canale, già io, questo, dove avrei fatto i tuoi passaggi, magari sui video, cioè, i vostri video. E andate su, io che volete mettere, la cosa che volete mettere, il sondaggio, ecco. Andate, io vado subito a volare. E scriveremo, ecco, c'è, ci sarà scritto qua sotto, modifica video, voi facete, modifica video. Che ho avuto male, grazie. Aspettate, ecco qua. Io quando dico, aspettate, si fa tutto, si carica, ecco. Allora, ho avuto un blocco, basta, madonna santa. Ok, c'era fatto, ecco qua. Dove avrei fatto questo, dove avrei fatto questo, dove su, schede, prendo su, schede. E dove avrei fatto schede, dovete fare, eh, come sembra la pagina. E no, non vi porterà su, e tu. Stavo a dire. Vi porterà, ce ne facete essi qua su, sempre su una, la pasta, se volete fare voi. Ok. Stavo a dire, ecco, vi porterà in questo qua. Qua facete aggiungi scheda, facete sondaggio, in base a quello che voglio fare. Io faccio il sondaggio, perché voglio fare il sondaggio, scriveremo quello che voglio scrivere io. Scriveremo, vediamo, dovremmo scrivere. Ehm, vediamo. Ehm, vediamo. Ehm, vi è, piaciuto, piaciuto. Non sino, volete, volete, altri, altri, video. Ehm, mettiamo un piccino di uno che, prende, mettete, volete scrivere quello che volete. Io in questo caso scrivo sì, potete scrivere no. Poi potete aggiungere anche un'altra cosa. Potete aggiungere la terza opzione, anche la quarta, la quinta, la sesta, tutto questo. Come terza opzione metteremo, eh, sì, no, metteremo, certo, certo, vabbè, eh, vabbè, certo, ok, certo. Vabbè, non mettiamo la terza opzione, la mettiamo solo, eh, va bene, va bene, va bene, tipo, va bene, non mettiamo chiuderemo oggi, va bene, e dove facete su, crea scheda, come hanno detto oggi, facete su, crea scheda, e vi creerà la scheda, ecco fatto, se poi volete aggiungere anche, non so, altre schede, volete, 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 volete tagliare, potete farlo, tranquillamente. dovete aggiungere, dovete aggiungere le schede, dovete averne fatto, avete finito, se non ci credete, andate sul vostro canale YouTube, e, dovete andare su questo canale YouTube, e, dovete andare su questo canale YouTube, non so, perché mi sono, vabbè, anche su un canale YouTube, e, vi comprerà video per l'istituto, video, io, a parte che ho 558 views, e, sono scritto, 16,18, andremo qua su, questo, e, come vedete, devo portare due giochi nuovi, Devo portare due giochi nuovi,층elo a parte, e, chi vuole mettere... io ho scritto va bene, ma ho scritto banale... vedete, dobbiamo andare a correggere i suvi... ...dobbiamo andare a correggere i suvi, ma non... ho scritto banale, ma va bene, ho lasciato di stare facili a richiarverti niente... due secondi che ragazzo l'ho corretto comunque ecco e vabbè si ho messo va bene dove ho fatto tutto andate su youtube e potete vedere che si è fatto basta ecco volete mettere quello che volete mettere volete altri video mettete si no vabbè aspettate la pagina ci sono scritto due giochi nuovi ok ragazzi comunque i video si finisce qua ci vediamo il prossimo video spiegate al canale se i video vi è piaciuto mettete 5 like o 6 e porterò un altro video tutorial ciao